in questo periodo le ciliegie sono di stagione grandi e succose sono davvero buonissime quest'oggi ho deciso di realizzare una ricettina facile e veloce che piace proprio a tutti i grandi e piccini perfetta sia per la colazione che per la merenda oppure per qualsiasi momento della giornata quindi cosa aspettate continuate a seguirmi per scoprire cosa andrò a preparare preparo il crofotina le ciliegie procedo snocciolando 200 g di ciliegie belle mature e poi divido a metà mi occupo ora della teglia vado ad importare per bene la base ai bordi aggiungo le ciliegie sul fondo della pirofila in una ciotola aggiungo le uova zucchero e il pizzico del sale inizia a mescolare con la fusta a mano poi aggiungo la panna fresca il latte e lo yogurt mescolo ancora infine unisco la farina l'amido di mais e la bustina di vanillina ottengo un composto omogeneo e senza grumi ricopro con la pastella tutte le ciliegie lascio cuocere in forno statico a 180 gradi per circa 30 minuti una volta sfornata lascio raffreddare per bene poi con spargo di zucchero a velo velocissima da fare perfetta con la frutta che più preferite troppo golosa e claustina le ciliegie da preparare subito si conserva in frigo per un massimo di quattro giorni grazie 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 grazie